Arriva ad Arezzo, c'è un messaggio anche etico in questo? Assolutamente, il nostro messaggio è mettere insieme quelle che sono le caratteristiche di avere una gara molto bella, importante, composta da persone anche rilevanti, in questo senso perché c'è una gara interamente fatta da giornalisti delle maggiori testate italiane e accanto a questo un messaggio molto chiaro, utilizzare un'auto che non inquina è possibile ed è utile soprattutto, quindi il messaggio specifico è che con un rally in cui tu vieni ad Arezzo e riesci a essere completamente autonomo da Torino fino ad Arezzo nell'autonomia di veicoli e performante perché le macchine sono assolutamente performanti, questo che c'è la dimostrazione pratica che non è tanto una gara sportiva ma è un messaggio chiaro, comprate pure una macchina di energia alternativa perché funziona molto bene e la puoi utilizzare a tutti. Il coinvolgimento della provincia consiste nella consapevolezza di iniziative come questa e come tante altre che durante l'anno vengono organizzate in questo territorio, penso a Rarito del Casentino o all'Altrano Scalato dello Spino che hanno un respiro addirittura internazionale e europeo, rappresentano occasioni per far conoscere il nostro territorio, per far permanere nel nostro territorio persone che quindi ne conoscono anche altri aspetti di carattere culinario, culturale, turistico ricettivo e soprattutto la partecipazione della provincia vuole anche testimoniare un ringraziamento rispetto a coloro che in questi anni hanno lavorato perché queste cose accadessero. Mi riferisco all'Ascia e alla Scuderia Etruria in modo particolare che per 365 giorni all'anno sono impegnati nel far sì che occasioni come queste arrivino ad Arezzo. Il compito delle istituzioni è cercare di cogliere queste opportunità nonostante la crisi, cercare di valorizzarli al meglio facendo i più possibili esistenti. Una buona opportunità perché ci saranno anche 20 giornalisti, questi occhifaggi, che arrivano nel cuore di Arezzo, avete concesso Piazza Grande. Sì, è un'occasione per presentare ai media, quindi ai giornalisti e ai tanti personaggi che mi tranno le auto questa bella manifestazione, la città più bella e quindi il cuore della nostra città. È un'occasione quindi di promozione, non potevamo dire di noi, quindi ci aggiungiamo i ringraziamenti agli organizzatori del Comune, ha fatto quello che poteva insomma per fare sì a questa manifestazione si potesse tenere nel miglior modo possibile. La scuderia Etruria, grande impegno. Ormai siamo abituati a questi grandi impegni, volevo ricordare anche all'assessore che quest'anno Arezzo è stato veramente il centro della nostra attenzione perché abbiamo iniziato con il primo reddito delle valate a retina che è stato un impegno grandissimo e anche questa invece di riportare un'attenzione su un tipo di manifestazione che è un regolarità rally, questo sesso rally, ecco rally che verrà appunto ad Arezzo è una cosa importante e che è un messaggio che vogliamo lanciare sia di attenzione sulla parte ecologica sia sulla attenzione sui combustibili differenti rispetto a quelli tradizionali per cui uno sviluppo che conseglierà chiaramente attraverso questi studi di poter utilizzare questi combustibili anche nella circolazione normale.